buongiorno a tutti e buona domenica a tutti in base a quando vedrete questo video e eccoci qua con la seconda sfida del terzo turno della seconda edizione del turno degli iscritti oggi avremo i lauretta lauretta con il miliardario contro i vet con il 20 per sempre 5 5 e come la sfida tra luisa e sofia andremo uno a uno a meno che qualcuno lo metta una vincita alta subito e quindi dovremo passare a capito andiamo avanti andiamo numeri vincenti per lauretta 13 21 19 25 e 43 46 non ci sei sul primo obiettivo per lauretta 36 non ci sei tutto col 6 32 non c'è 40 non c'è e 38 non c'è 42 non c'è 15 abbiamo il 13 33 non c'è niente quel mio amico e il 28 non c'è e il 30 neanche ultima fila 16 non c'è 14 c'era il 13 45 c'è il 43 29 non c'è l'ultimo numero è il 23 c'era il 21 25 primo biglietto per lauretta perdente passiamo al primo per i vet con il suo 20 per numeri vincenti 13 32 32 12 bello quel 12 44 e 39 il bonus primo numero 17 non c'è 31 c'è il 32 26 non ne abbiamo e non ci sei 30 aia 32 27 non c'è 14 c'era il 13 18 non c'è 38 c'era il 39 bonus 29 niente e 19 niente tutto col 9 tranne il 39 36 non ci sei 22 non c'è 11 non c'è abbiamo 12 13 25 non c'è l'ultimo numero 21 c'è il 12 girato niente grazie ancora sono secondo biglietto per lauretta lauretta numeri vincenti 17 34 28 30 e 37 primo numero 43 45 non ci sono 41 non c'è 29 c'è il 28 16 c'è 17 bene 26 26 non ci sei 12 non c'è 13 neanche 38 c'è abbiamo il 28 e 37 bene 14 non ci sei 32 non c'è 20 non c'è 33 33 33 sempre il micro non c'è 19 non c'è l'ultimo numero e il 39 e non c'è secondo biglietto per lauretta ancora 0 euro e secondo biglietto per i vet numeri vincenti 37 41 41 43 35 il bonus 45 il numero 14 c'è 41 girato 21 non c'è 40 c'è sempre 41 16 non c'è 34 c'è 35 28 non c'è 31 non c'è 17 non c'è 44 abbiamo il 43 e 45 il 23 non c'è 33 ancora lui ma non c'è 42 c'è 43 41 29 niente 35 prima vincita per i vet 45 prima il codice quindi i vet passi in vantaggio con il 35 e sono ben 5 euro quindi lauretta 0 e i vet 5 euro terzo biglietto per la lauretta che vediamo se mette a segno che vincita numeri vincenti 35 37 13 41 e 23 primo numero 44 non c'è 42 c'è un 41 abbiamo noi 16 non c'è 25 c'è il 23 32 non c'è 27 non c'è 15 neanche 17 abbiamo il 13 39 non c'è e col 34 chiudiamo la seconda fila e non c'è terza fila 24 non ce l'abbiamo 21 non c'è 21 non c'è 12 c'è il 13 penultimo 22 non c'è l'ultimo 18 non c'è e rimane ancora 0 euro lauretta ecco il terzo biglietto per i vet che in vantaggio di 5 euro 22 42 42 12 43 e 19 i numeri vincenti e il bonus 19 primo numero 18 liscio 41 cioè abbiamo il 42 39 non c'è 17 non c'è 38 non c'è 37 non c'è 27 niente 28 niente 32 abbiamo detto che non c'è 45 niente 36 niente e 40 niente ultimi tre numeri 29 non c'è 14 non c'è e 11 non c'è quindi ancora 0 a 5 quarto biglietto per lauretta lauretta 23 42 15 16 e 20 numeri vincenti 31 non c'è 36 non ci sei 34 non c'è a 30 proprio non c'è 44 niente 17 17 c'è 16 18 niente e 46 che non ci sei 11 niente e 28 c'è il 23 o 20 24 niente ancora di 1 37 non c'è 19 19 c'è il 23 e sempre in mezzo nostro amico 26 non c'è 6 l'ultimo numero il 15 attenzione attenzione o pareggio o ben vantaggio lauretta lauretta vediamo un po 15 euro aia 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 si ribalta la situazione 15 euro lauretta lauretta 5 euro ivetta passiamo al quarto biglietto per facciamo il quarto biglietto o chiudiamo con lauretta facciamo il quarto biglietto numero di vincenti per ivetta 18 si è accesa la sfida 39 26 24 e bonus 42 number one 28 pure in inglese ragazzi 21 niente 13 non c'è 13 non c'è 32 non c'è 41 avevamo ancora bonus 42 38 non c'è 16 non c'è 11 non c'è 39 30 scusate non c'è stavo leggendo 39 e il 35 non c'è l'ultima fila 27 non ce l'abbiamo 25 c'era 26 24 19 c'era il 18 15 non c'è e l'ultimo il 29 e abbiamo 26 rimane 15 per lauretta e 5 per ivetta ultimo biglietto per lauretta che in vantaggio numeri vincenti 20 30 34 22 e 33 oh adesso c'è il 33 visto il mio amico 37 primo numero non c'è 35 c'era 34 41 non c'è 13 non c'è 43 non c'è 43 non c'è 18 non c'è 17 non c'è 42 nienta 11 nienta 27 nienta 16 non c'è 44 no 12 non c'è ultimi due 19 non c'è 19 non c'è l'ultimo numero 36 non ci sei niente chiude l'ultimo biglietto perdente ma in vantaggio sempre di 15 euro quindi 15 a 5 ultimo biglietto per ivetta ultime speranze 12 21 24 37 e 27 il bonus primo numero 17 nienta 16 nienta 46 non ci sei 19 non c'è 25 c'è il 24 28 c'era il 27 come bonus 40 nienta 38 nienta 24 24 attenzione 24 attenzione 13 non c'è 15 non c'è 45 non c'è 29 non c'è il 31 non c'è e il 43 allora partiamo intanto il codice qua c'è da fare un ragionamento siamo 15 a 5 allora se troviamo 5 euro perde ivetta esce se troviamo 10 pareggiano e poi si vedrà ci fa più più oltre i 15 i 10 euro passerebbe ivetta quindi vediamo un po cosa c'è sotto il 24 5 euro quindi ahimè una vincita di 10 euro non basta ivetta perché la nostra lauretta lauretta ha messo a segno 15 euro quindi 15 a 10 passa lauretta la lauretta all'altro turno io vi saluto lasciate un bel mi piace condividete il video e ci vedremo poi con l'ultima sfida anna morrea contro barbara cremona ciao a tutti e un bacio a tutte ciao a tutti